Eccoci qua al punto qui a Telefriuli con il sindaco di Tarcento, Mauro Steccati. Benvenuto sindaco. Grazie, grazie per l'invito. Ecco, allora con il sindaco di Tarcento intanto affrontiamo subito l'argomento del giorno, la questione del Covid, ma come l'avete gestito, e poi parliamo un po' anche dei migrati, ma iniziamo con quale è la situazione del Covid a Tarcento, sindaco? Beh, a Tarcento veniamo da un periodo, come in tutti i comuni, come in tutta Italia, ma addirittura in tutto il pianeta, molto impegnativo per quello che riguarda la gestione del Covid. Non abbiamo avuto gravi problemi, eravamo molto preoccupati dal fatto che avevamo e abbiamo due case di riposo, con parecchi ospiti e anche con addetti ai lavori, ma è andata molto bene, siamo stati forse anche un po' fortunati e la fortuna non guasta. Attualmente, purtroppo, devo segnalare che da alcuni giorni, dopo parecchie settimane che non avevamo positivi, abbiamo una persona positiva, quindi che è in isolamento, e sei persone che sono in quarantena, diciamo, precauzionale. Quindi bisogna attendere gli eventi, no? Ecco, non diamo per scontato che questa, purtroppo, questa pandemia sia scomparsa del tutto, anzi, colgo l'occasione anche per evitare i miei concittadini a tenere sempre alta la guardia e a rispettare quelle che sono le norme anti-Covid. Ecco, poi c'è un po' il fenomeno che riprende un po' dalla migrazione, questi migranti che, specialmente in provincia di Udine, abbiamo visto anche dei servizi che Telefriola mi ha dato in onda in diretta oggi, c'è una tensione particolare, no? Sì, ricordo già nel 2013-2014 ero già amministratore in un altro comune, che sono arrivati le prime ondate di migranti qui in Friuli Venezia Giulia e erano stati distribuiti nei nostri comuni. Al tempo qualcuno, per convincerci, diceva che bisognava interpretarli e vederli come una risorsa. Noi invece li abbiamo sempre visti come un problema e adesso, devo dire la verità, per quello che ci riguarda, per come la pensiamo, l'accoglienza è un fatto sacrosanto, però deve essere rivolta a chi effettivamente fugge dal senare di guerra, fugge dal senare dove rischia la vita, dove è perseguitato. Vediamo invece che gli migranti di adesso, che sono di solito, sono per la maggior parte, se non la quasi totalità, sono migranti di carattere economico. Vengono qui adesso, la nostra Lampedusa è qui su confine proprio del Friuli con la Slovenia, vengono qui in migliaia, in centinaia, in migliaia vengono e effettivamente li dobbiamo accogliere, li dobbiamo assistere. Devo dire la verità, dà anche fastidio a me personalmente, ma pare che vengono cittadini, il fatto di vederli, come dire, stazionare con dei telefonini, ultimo modello, diciamo così, avere anche delle pretese o delle proteste su come sono accolti e sulla qualità del cibo, proprio su come dovessero... C'è un po' di malessere che in qualche modo bisogna che il governo, in primis anche la regione, dovrà dare una soluzione. È una soluzione difficile perché è un fatto epocale che non terminerà in poco tempo, però diciamo che i sindici si sentono in prima linea. Sì, certamente, è difficile, noi dobbiamo essere equilibrati, dobbiamo essere giusti e dobbiamo essere accoglienti, ripeto, però dobbiamo appunto valutare e dovrebbero dirci con quali criteri questa accoglienza dovrebbe essere manifestata. I comuni hanno già dato e stanno dando molto, sia a livello di impegno, come dipendenti, come amministratori, però il fatto di dover tranquillizzare la gente e non sapere da dove arrivano queste persone, con l'aggravante adesso di questa pandemia mondiale, che queste persone arrivano dalla situazione, immagino, in cui l'assistenza sanitaria non sia come le nostre, quindi possono essere acceleratori di veicolo di trasporto di Covid, proprio, di virus. Ecco, senta sindaco, voltiamo a pagina e parliamo un momentino della proposta del governatore, dell'assessore Roberti, del nuovo setto di enti locali, in particolare per le province, o Arevas, non so come si chiameranno. Qual è la sua opinione? Sì, diciamo che ogni amministrazione regionale, ma anche nazionale, forse anche a livello comunale, cerca di cambiare le cose che erano state fatte in precedenza, che non avevano funzionato. Roberti ha fatto bene a fare questa modifica, perché io ero motivatamente contrario alle UTI, abbiamo visto che le UTI non hanno funzionato e non potevano funzionare, essendo basate su un denominatore comune, che era quello della imposizione. Con questo nuovo setto, questa nuova comunità di montagna che l'assessore Roberti ha voluto o ha chiesto ai territori di poter avviare, abbiamo invece una maggiore libertà. Possiamo definire, decidere che cosa mettere insieme, quali servizi vogliamo mettere insieme su territori che si presume siano abbastanza omogenei, anche se non è proprio del tutto vero. Una cosa che ha permesso di dire, qualsiasi legge, qualsiasi norma, qualsiasi politico voglia promulgare, bisogna pensare che bisogna dare ai territori le risorse, che sono sia in termini di personale, ma anche e soprattutto in termini di risorse economiche, perché se no la riforma è destinata a fallire già in partenza. Ecco, questo è il grande problema, perché voi chiedete risorse, i suoi colleghi me l'hanno detto anche nelle interviste che faccio. Sinta, poi parliamo di territorio e quindi parliamo anche di lavori, lavori pubblici, lavori che mi pare che a Tarcento ci sono e... Sì, abbiamo un programma di lavori pubblici consistente, sia in itinere, sia già eseguiti e sia in previsione. Dobbiamo dire, per quello che riguarda Tarcento e il mio comune, che Croce d'Elizia di Tarcento è il territorio. Il territorio è... Tarcento insiste su 35 km quadrati, le caratteristiche geomorfologiche ambientali del territorio vanno dalla montagna alle colline moreniche, al fiumi... Ci sono diverse, insomma, quindi... e abbiamo purtroppo il fenomeno endemico che da parecchi decenni, per una serie di motivi ovviamente, delle frane, che sono il fenomeno che in questo momento ci preoccupa in maniera più importante. Devo dire la verità che tutte le amministrazioni regionali negli ultimi vent'anni hanno contribuito e hanno, come dire, stanziato fondi consistenti per poter intervenire su queste frane. E lo stiamo facendo, l'hanno fatto i nostri predecessori, lo stiamo facendo noi e lo faranno anche in futuro. Però la burocrazia, questa burocrazia, ci frena, ci mette in basso nelle falle ruote. Lei pensi che per un'autorizzazione di eroeco forestale o per un'autorizzazione per quello che riguarda i calcoli del cemento armato o per un'autorizzazione paesagistica servono mesi, se non addirittura anni. Poi, come adesso stiamo facendo un lavoro molto importante di sghiagamento del torre, atteso da un ventennio, forse anche di più, da parte della popolazione e succede che dal primo di dicembre al 30 di aprile non puoi andare a lavorare a sghiagare il torre perché intorbi di l'acqua e disturbi la trotta che deve deporre l'uomo. Quindi questioni burocratiche, questioni ambientali e quindi, diciamo così, il tempo previsto si moltiplica. La gente ci chiede risorse, la gente ci chiede soluzioni, però effettivamente con questi vincoli i tempi naturalmente si allungano. Ecco, siete, il rapporto con le opposizioni com'è? Cioè, è il solito rapporto costruttivo oppure ognuno fa il gioco alle parti? Diciamo che ognuno svolge il suo ruolo e cerca di svolgerlo al meglio. Noi svolgiamo un ruolo di maggioranza meglio che possiamo e le opposizioni cercano di fare il loro lavoro. Diciamo che le opposizioni a Tarcento e in Consiglio Comunale ci sono 11 gruppi, ci sono 7 gruppi di minoranza e ci sono 7 consiglieri di minoranza e ci sono 7 gruppi. Quindi ogni consigliere è molto difficile da gestire dopo, no capisci? Quindi anche più problematiche. Quindi rappresentanze variegate. Sì, rappresentanze variegate e comunque molto combattive. Diciamo che secondo me in alcune occasioni è gestivamente politicizzate, però ovviamente ognuno svolge il ruolo come crede sia meglio. Noi abbiamo scelto di svolgere una politica non urlata, una politica sobria, non urlata, moderata e cerchiamo di porci alla gente in base a quello che abbiamo proposto nel nostro programma elettorale, di mantenere fede a quello che appunto avevamo proposto. Ecco, senta, cosa vuoi dire a Tarcento? Perché so che Tarcento, mi ricordo quando ero piccolino, che passavo con mio padre su, era chiamata la Perla del Friuli e quindi ha una grossa responsabilità sotto questo aspetto, no? Siamo orgogliosi ancora di avere questa reputazione, di essere la Perla del Friuli. A Tarcento faccio la premessa, quest'anno come manifestazioni per forza di cose sono state parecchie rinviate o ridimensionate. Le Proloco, tutti i gruppi che stanno lavorando ovviamente, che lavoravano nelle manifestazioni storiche, si sono ridimensionate, però alcune manifestazioni magari in carattere minore, tipo la festa del Santo Patrono di San Pietro, si è svolta lo stesso. Cosa a vedere a Tarcento? Veramente, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Se uno vuole venire a piedi, vuole venire in auto, vuole venire in bicicletta, a Tarcento c'è di tutto. Se vuole andare a fare le cascate di Croces ad esempio, un angolo di paradiso, un angolo di paradiso, dove puoi andare a fare un picnic, puoi fare il bagno, puoi vedere un panorama meraviglioso che è sotto la cascata, le cascate di Croces sono sotto la diga che ha costruito Molignani e quello potrebbe essere, ma anche tutte le colline, gli agriturismi di Coglia, di Sedilis e anche i ristoranti della pianura, Segnacco, Loneriacco, posti bellissimi. Insomma, dà molte possibilità. Molte possibilità e molta soddisfazione, veramente vi aspettiamo numerosi e non sarete delusi. Ebbene, allora è giusto anche che quest'anno che è un po' particolare, la gente resti un po' in friuli, anche per dare una mano all'economia, diciamolo pure, no? Questo è un fine nobile. Ecco, senta, fra poco si svolgeranno le operazioni del referendum, no? Questo referendum che qualcuno dice, ma abolendo i parlamentari la nostra regione rimarrà senza, con meno rappresentanza, qualcuno dice, è il vulnus alla democrazia, qualcuno invece dice, ce ne sono troppi, mangiano troppo, bisogna pulire un po' il Parlamento invece di mille che siano 500 o 600 giù di lì. Qual è la sua opinione, sindaco? Beh, la mia opinione, concordo, certamente non è un fatto matematico, no? L'importante è che il Parlamento, ma tutti gli organismi costituzionalmente previsti dalla nostra Costituzione lavorino e lavorino bene e lavorino al meglio di quello che possono. Le rappresentanze politiche ci devono essere, pare di capire che il friuli verrebbe penalizzato da questo tello dei parlamentari, ma è un calcolo che è stato fatto da qualcuno, certamente noi amministratori o comunque noi cittadini del territorio dobbiamo scegliere e quindi io sono favorevole insomma alla riduzione di questi problemi. Ecco, senta, il rapporto con la regione sarà buono insomma, immagino, no? Il rapporto con la regione è buono, a livello politico, vabbè adesso noi siamo di centro-destra, la regione è rappresentata da centro-destra, però è buono a livello politico, ma è importante anche, perché i politici cambiano, no? È importante anche mantenere buonissimi rapporti con la struttura, perché come dicevamo prima, è vero che la burocrazia frena, però è anche vero che troviamo in regione tanti funzionari che capiscono i problemi del territorio e quelli rimangono al di là dei politici. Quello è una cosa interessante che le dici anche molto intelligente, perché i politici passano e funzionari restano e se sono bravi tanto meglio, insomma, no? Certamente, e poi loro conoscono, sono memoria storica, conoscono gli iter che possono iniziare, appunto, in un mandato di un amministratore locale e continuare per parecchio tempo. Bene, anche Creta è stata molto interessante, il sindaco di Tarcento è stato molto chiaro, esaustivo nelle sue proposte, io lo ringrazio per la sua partecipazione, che spero torni quando avrà qualcosa da dirci o qualcuno, lo inviteremo. Naturalmente una buona visione con Telefriuli, grazie per sempre l'affetto che ci dimostrate al punto e grazie al sindaco del Tarcento. Grazie a voi, arrivederci alla prossima occasione.